buongiorno alunni oggi facciamo una cosa veramente importante la tecnica più utilizzata da tutti tutti i disegnatori è una tecnica che all'inizio ci metterà un po diciamo alla prova perché è la fondamentale della fondamentale innanzitutto questa questa tecnica io personalmente la chiamo la tecnica della delle forme primarie o anche a volte la chiamo la tecnica delle forme geometriche cioè semplificare una forma attraverso cerchi cilindri linee di direzione che servono a semplificare il nostro disegno ok trovare la struttura di un soggetto che noi andiamo a disegnare ovviamente per poter diventare bravi esperti in questa in questa modalità del disegno dal vero serve molta molta pratica ok quindi noi che iniziamo in prima media sicuramente alla fine del nostro ciclo di studi diventeremo sufficientemente esperti ok allora intanto il materiale che ci serve è il nostro foglio da disegno le nostre tre matite quindi hb 2b e 4b il temperino la gomma un recipiente per raccogliere i residui della matita dei fazzoletti o chi ne è provvisto anche uno sfumino ma è la stessa cosa ok e poi ovviamente una riga per poter fare la diciamo l'impaginazione iniziale che adesso vi farò vedere che cosa andremo a disegnare oggi insieme un nostro soggetto è un bel gatto un gatto tigrato che faremo a chiaroscuro quindi riprenderemo dopo l'esperienza del colore riprenderemo un attimo il tratteggio a chiaroscuro allora iniziamo subito a vedere come si fa la nostra squadratura per questo disegno particolare io l'ho preparata dietro per farvi ricordare quali sono le misure quindi è la cornice in cui noi andremo a fare le diagonali e poi prendere 8 centimetri dal bordo 8 centimetri 8 centimetri e faremo questo rettangolo ok all'inizio non cancelliamo le diagonali perché ci potrebbero servire per darci più o meno un punto di riferimento quindi vado a preparare la cornice in modo che inizio anche io da zero insieme a voi andiamo a fare la prima diagonale mi raccomando disegnate sempre molto molto leggeri la regola veramente primaria per poter fare un disegno qualsiasi qualsiasi tipologia di disegno disegnate sempre leggeri 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 c'è sempre tempo per calcare lo dico sempre poi gli 8 centimetri dal bordo quindi mettiamo lo zero qua 8 centimetri 8 8 centimetri vedete ormai è veramente veloce fare la nostra cornice fatto questo andiamo a unire i punti questa volta possiamo fare un segno un po più spesso un segno un po più forte questo anche un ottimo esercizio per controllare la pressione della mano quindi leggero pesante quando dico pesante significa pesante e leggere invece appena appena un po di forza per lasciare giusto un'indicazione della matita allora a questo punto il nostro diciamo la nostra cornice pronta la cornice rettangolare da 8 centimetri dal bordo prima però di iniziare vi devo dare alcune indicazioni fondamentali per poter essere diventare spetti nella tecnica delle forme primarie allora innanzitutto metodo delle forme primarie che potremmo anche chiamare geometriche ok quali sono queste forme geometriche ovviamente sono il cerchio triangolo il rettangolo il quadrato le linee in tutte le sue quindi linee rette linee curve linee spezzate eccetera eccetera quindi sono queste qui le tipologie di forme primarie che intendo quelle al cerchio ovviamente c'è anche l'ovale quindi se il quadrato è quello diciamo equilibrato che a tutti i lati uguali corrisponde rettangolo al cerchio corrisponde l'ovale c'è gli ovoidi allora la prima regola innanzitutto c'è la regola 0 ok la regola 0 per poter utilizzare il metodo delle forme geometriche e disegnare sempre 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 leggeri quindi se io vado a fare un segno leggero leggero non pesante ok qui è pesante qui leggero disegniamo sempre in questo modo perché ci permetterà poi dopo di poter cancellare senza lasciare traccia vedete che se io cancello qui anche se metto molta forza sulla gomma ormai rimane un segno invece qui è completamente sparito questo è fondamentale disegnare leggeri perché la maggior parte di queste forme andranno cancellate regola numero 1 attenzione dopo aver capito che bisogna sempre bisogna sempre 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 disegnare leggeri la regola numero 1 è riconosco le forme quindi attenzione aprite bene gli occhi osservate bene per per riconoscere le varie forme se sono dei cerchi se sono dei rettangoli se sono dei triangoli e così via dobbiamo riconoscere quali sono quali sono quali forme sono due ovviamente dopo bisogna capire capisco le dimensioni di queste forme quindi se sono grandi o sono piccole quindi dobbiamo capire quanto questo servirà a trovare ovviamente le proporzioni prima capisco la forma poi capisco quanto è grande rispetto alle altre 3 trovo la sua posizione quindi se noi abbiamo il nostro foglio da disegno devo capire in quale punto all'interno della cornice mettere la forma ok dove andrà nell'angolo in bassa sinistra 4 rispetto la sua direzione ok quindi se io vado a mettere per esempio un a disegnare un triangolo devo capire in quale direzione tende ok questo è fondamentale perché se noi andiamo a disegnare non so la testa di un antilope devo capire dove far guardare l'antilope ok va bene quindi a seconda della direzione di queste forme il mio disegno prenderà la giusta la giusta figura detto questo quindi le parole fondamentali sono le forme le dimensioni la posizione e la direzione e a base di tutto disegnare sempre leggeri forme forme dimensioni posizione direzione queste sono le quattro parole chiave per poter controllare le forme primarie ok detto questo fate un fermo immagine in modo che poi le potete copiare iniziamo il nostro disegno ok allora ovviamente si inizia da una matita molto leggera come per esempio l'hb ok allora vado a io poi vi metto diciamo l'immagine di riferimento su we school a disegnare leggero leggero la forma del mio gatto vedete allora io faccio guardate poggio lo spigolo della del mio mignolo sul foglio senza disegnare ok poi senza disegnare una volta che faccio memorizzo 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 poggio la matita e ti faccio fare lo scarabocchio ok non mi fate non cercate di fare la linea per controllare un'unica linea per fare la forma non è questo le forme geometriche non è non abbiamo un compasso nella mano ok ma invece dobbiamo scarabocchiare ok leggeri leggeri in questo modo ok io voglio proprio che facciate questo esercizio anche prima così capite bene il movimento se il movimento è quello andate a fare un segno un po' più grande va bene? quindi prima andate andiamo a prendere le direzioni ok a volte mettono anche possono aiutare anche delle linee per darci diciamo l'aspetto di questo gattino ve lo faccio vedere un po' più da vicino ve lo faccio vedere un po' più da vicino quali sono le linee che abbiamo messo all'inizio un disegnato veramente molto leggero una volta fatto questo vado a fare quindi queste sono bisogna assolutamente non sbagliare nel posizionare le linee principali a questo punto già non ci serve più le diagonali quindi possiamo cancellarle a questo punto non ci servono più togliamolo e così abbiamo la possibilità di disegnare in un modo tranquillo senza pensare di dover eliminare le diagonali quindi le togliamo subito a questo punto a questo punto facciamo una fase che si chiama raccordare raccordare significa andare a unire le forme qui ce n'era ancora un'altra se mi ricordo bene c'era un'altra qui un'altra qui ok quindi andiamo a raccordare le forme e incominciamo a creare anche diciamo il profilo la sagoma anche un po' diciamo più più delineata del contorno cominciamo a fare un po' di diciamo di pelliccia del nostro gatto del nostro gattino iniziamo a controllare bene anche la forma delle zampe la pancetta evidentemente sto gatto ha appena mangiato perché c'ha una bella pancia gonfietta e poi l'altra zampetta che sta così ok quindi sono andato a tracciare il contorno una volta fatto questo andiamo a costruire le linee della diciamo di questo tappeto e poi disegniamo anche questa sorta di divano non saprei che cosa è veramente ok quindi le direzioni di questa di questo tappeto e possiamo già iniziare a fare delle linee vedete un po' diciamo irregolari quindi non delle linee dritte ma delle linee irregolari questo è anche un ottimo esercizio vedete il disegno non è semplicemente il soggetto cioè questo disegno non è composto solamente dal nostro protagonista dal gatto ma c'è anche un'ambientazione quindi una uno spazio intorno che lo rende appunto che crea la profondità la profondità è data sia dalla posizione del gatto ma anche dalla prospettiva che c'è dietro allora fatto questo e possiamo andare a cancellare le linee dentro lasciamo questa questo cerchietto perché ci serve dopo per per il chiaroscuro allora andiamo a delineare un pochettino meglio il volto allora facciamo qui il piccolo nasino che è una specie di T ok una piccola T piccolina qui qui osservate bene diciamo che ai fini del nostro disegno il volto del gatto in questo momento non è molto importante ma più che altro riuscire a fare il bene il suo corpo e capire come costruirla una figura del genere quindi se viene diciamo non viene proprio un gatto come vi piace a voi per quanto riguarda il volto non vi preoccupate non era l'obiettivo ok attenzione perché il gatto ha delle pupille che non sono come quelle umane sono delle linee verticali ok per adesso lasciamolo così poi se c'è da aggiustarlo lo sistemiamo dopo gli abbiamo dato giusto un po' allora adesso prendiamo la matita 2b quindi con la 2b andiamo a aiutando anche col dito in seconda posizione quindi poggiamo la matita in seconda posizione lavorando col fianco andiamo a tratteggiare tutto tutto il corpo intendo anche qui cercate di avere un segno uniforme ok a questo punto prendiamo il fazzoletto e possiamo sfumare adesso abbiamo un trucco con la gomma andiamo a creare le parti di grade quindi andiamo a fare guardate questo effetto della pelliccia del gatto ok ecco qua quindi in alcuni punti andiamo a fare la pelliccia anche qui ovviamente nel volto del gatto e poi possiamo rischiarire un po' le zampette ok una volta fatto questo ovviamente poi puliamo anche un po' intorno con la matita 4b a questo punto quindi avete visto con il trucchetto della gomma andiamo a fare le parti chiare e poi in prima posizione quindi con la punta della matita e quella 4b iniziamo a fare invece a rafforzare le parti scure facendo facendo del tratteggio quindi andiamo a tratteggiare per rafforzare diciamo la la pelliccia di crata di questo gatto grigio il classico gatto di crato ci sono quelli rossi e poi questi qui classici molto belli il gatto di crato con anche le zampette bianche qui iniziamo a fare anche un po' lo scarabocchio scarabocchio è un tratteggio per andare a fare le ombre quindi dove c'è un po' più scuro possiamo iniziare a fare un po' di ombre anche qui sotto la coda anche qui vedete facendo con dosando la forza tiriamo fuori il tigrato dalla coda attenti a pulire altrimenti non viene l'effetto facciamo così per tutto il corpo dove vedete più scuro nell'immagine mettete più forza allora 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 un asino un asino poi un po' di pelucchi dentro ora facciamo le orecchie facciamo le punte nere come se fosse una piccola lince in effetti la somiglia un pochettino la lince ok e ecco qua abbiamo quasi terminato il disegno poi prendetevi tutto il tempo necessario per fare bene questa pelliccia ora sono andando un po' più veloce ok ok Allora a questo punto dobbiamo andare a fare il tappeto. Allora il tappeto è in seconda posizione, sempre quella 4B, andiamo a prendere il primo e facciamo uno sì, uno no, aspettate che se... Vedete? Facciamo uno spazio sì e uno spazio no per creare questo effetto del tappeto. Fra cinque minuti abbiamo quasi finito il disegno, quindi un attimino abbiamo quasi pazientato un attimo e abbiamo così eliminato. Facciamo il chiaroscuro dietro, sempre con il fianco della matita. Vedete che bel segno largo che viene. Ed ecco qua. Poi possiamo fare un po' di chiaroscuro sotto per fargli un po' di ombre. e farlo staccare un po'. Allora, questo è diciamo l'impostazione del nostro gattino. Quindi vi ripeto, non vi preoccupate tanto se poi il volto viene un po' differente, perché l'importante è come abbiamo impostato inizialmente il nostro disegno. Quindi con le forme primarie. Va bene? Allora, buon disegno a tutti con il gatto geo, cioè il gatto geometrico. Ok?